Corpo di Cristo è un concetto interessante su cui spesso rifletto perché ho frequentato la chiesa per tanti anni quando ero ragazzino e c'è il corpo di Cristo c'è l'ostia consacrata no? Si va in chiesa si fa la comunione si prende in sé il corpo di Cristo e si vive quel momento di sacralità si vive quel momento in cui si introduce dentro se stessi questa energia che è il Cristo ma che cos'è il Cristo veramente? Beh il Cristo è un'energia soprattutto come ho già detto in altri video come in tanti già sappiamo una conoscenza che ormai comincia a fare parte un po' della nostra coscienza è un'energia che soprattutto fa riferimento al nostro sole a quella enorme massa di plasma che invia energia nel nostro sistema solare che regola la vita ma non invia solo energia in termini di plasma e di luce e di elettricità questa energia questa elettricità porta con sé l'informazione che regola la vita perché noi cominciamo a scoprire anche in questo tempo in questo periodo che ad esempio il dna il codice che sta alla base della vita viene regolato da quelli che sono gli influssi del nostro sole cominciamo a scoprire in questo periodo ad esempio che a livello dell'evoluzione della specie avviene qualcosa che è un po' contrario è un po' controsenso rispetto a quello che sosteneva darwin ovvero avvengono nel corso delle epoche delle esplosioni di evoluzione in cui l'evoluzione esplode e procede a una velocità molto superiore a quella che dovrebbe essere un'evoluzione secondo il concetto evoluzionistico di evoluzione graduale quindi avvengono invece delle esplosioni di evoluzione e avvengono proprio in corrispondenza di esplosioni da parte del sole quindi di esplosioni di energia da parte del sole come se ci fossero proprio degli upgrade della vita sul nostro pianeta e in generale nel sistema solare quindi il cristo è questa energia che è fondamentalmente connessa alla coscienza del sole il sole quindi come essere come entità che regola la vita come entità che regola l'informazione e il dna e la varietà nel nostro sistema solare che cos'è dunque il corpo di cristo io quando rifletto su questo concetto mi immagino sempre che non sia tanto qualcosa che io metto dentro il mio corpo magari attraverso un'ostia consacrata è piuttosto qualcosa in cui io mi muovo continuamente è il corpo se vogliamo di questo sistema solare o dell'intera galassia se vogliamo ampliare ancora di più il concetto ma è un corpo vivo in cui noi ci muoviamo proprio come cellule proprio come microorganismi si muovono sul nostro corpo noi ci muoviamo in questo corpo che è il corpo del cristo e questo ci porta almeno a me mi porta a farmi riflettere molto anche sul concetto di sacro che cos'è il sacro noi siamo ancora abituati almeno per una certa parte di società a un certo livello di coscienza a dividere il sacro dal profano quindi a vivere l'esperienza del sacro come qualcosa che è racchiuso nel famoso recinto sacro come era nella notte dei tempi e tutto ciò che è fuori è profano è mondano è qualcos'altro ogni tanto dobbiamo tornare a quel sacro per ritrovare quella connessione per ritrovare quella vibrazione che ci connette al cristo comunque a questa energia che ordina la vita e poi torniamo al mondano al profano ma se concepiamo e comprendiamo che il corpo di cristo è questo grande corpo di cui noi siamo microorganismi di cui noi siamo cellule in cui ci muoviamo continuamente allora è chiaro che tutto è sacro qualsiasi cosa è sacro qualsiasi parola che esce dalla nostra bocca qualsiasi atto che noi compiamo è sacro la differenza sta nel riconoscere tale atto come sacro oppure no nell'accettare di compiere tale atto in presenza come se fosse un atto sacro quindi vedi che anche da questo punto di vista la differenza tra sacro e profano si fa molto più sottile di quello che possiamo immaginare la differenza in realtà sta in cosa noi vogliamo rendere sacro e cosa no perché rendere sacro qualcosa ci richiede attenzione ci richiede presenza ogni volta che fai qualcosa contro voglia ogni volta che fai qualcosa sullo stimolo della paura dell'ansia ogni volta che fai qualcosa anche in maniera inconscia senza mettere lì la tua presenza la tua attenzione ecco che sei nel profano non puoi essere nel sacro perché non stai vivendo la presenza di quell'atto ma ogni volta che compi un atto quale atto qualsiasi atto sia ogni volta che compi quell'atto in presenza avendolo scelto consapevolmente vivendolo possibilmente nella gioia del compimento di quell'atto di quella parola di quel pensiero ecco che quella cosa diventa sacra e può essere qualsiasi cosa la preghiera può essere dentro qualsiasi cosa la preghiera può essere nel digiuno ma anche nel banchetto la preghiera può essere nel disintossicarsi ma anche nell'assumere tossine perché no attenzione a dividere il mondo in spirituale e non spirituale attenzione a continuare a dividere il mondo in sacro e profano perché tutto può essere sacro anche fumarsi lo spinello anche fumarsi la sigaretta anche bestemmiare perché no può essere sacro se tu lo fai con la coscienza totale di quell'atto la morale è qualcosa che viene dal mondo degli uomini e questo lo sappiamo dunque nel momento in cui accetti la sacralità della vita di per sé ovvero il fatto che ogni volta che sei totalmente in presenza le cose diventano sacre ecco che non hai più bisogno della morale il tuo referente non è più la legge morale ma è per citare Kant il cielo stellato ovvero il tuo referente diventa l'amore il tuo referente diventa la coscienza solare del Cristo il tuo referente diventa il campo ordinatore della vita non hai più bisogno delle leggi di uno stato delle leggi dell'uomo non hai più bisogno dei libri sacri non hai più bisogno di nessun maestro perché impari a riconoscere la tua profonda sacralità e la sacralità di tutto quando tu interagisci con quel tutto quindi questo qualcosa su cui riflettere soprattutto quando proviamo sofferenza perché la nostra vita ci sembra lontana da quella dimensione sacrale da quella dimensione di beatitudine rendiamoci conto che tutto può diventare sacro quando fai le pulizie quando fai i gesti più semplici anche quando fai quel gesto che magari non vorresti fare come può essere fumare la sigaretta per qualcuno che vuole smettere di fumare prova a fare quello stesso gesto in piena presenza in piena sacralità non come una distrazione neanche come una reazione a un impulso che viene da te ma fallo scegliendolo come se fosse un atto sacro come se quella sigaretta fosse un'ostia consacrata e vedrai che non solo fumerai meno sigarette ma quelle sigarette ti faranno meno male perché non starai nutriendo l'energia inconscia di quell'atto ma starai nutriendo la sacralità l'esempio della sigaretta solo per citare un esempio a caso per far capire come qualsiasi gesto può diventare sacro e quando poniamo l'energia del sacro in quei gesti che magari pensiamo ci vengano a nuocere ci portino sofferenza ecco che avviene una trasmutazione è un processo alchemico che avviene dentro di noi perché cambia lo stato di coscienza cambia la storia che raccontiamo rispetto a quel gesto ma naturalmente tutto questo richiede energia richiede coraggio perché perché spesso continuiamo a dividere il sacro dal profano c'è il momento del sacro in cui siamo presenti e poi c'è il profano perché questo perché essere nella presenza richiede energia richiede attenzione non è facilissimo è facile distrarsi a volte il sacro può addirittura darci fastidio tutto quel bisogno di essere presenti tutto quel bisogno di essere lì in ogni gesto in ogni cosa di sceglierlo di metterci quell'amore di metterci quella consapevolezza richiede energia a volte sentiamo di non averla vogliamo distrarci vogliamo entrare nell'inconsapevolezza vogliamo rivivere quell'energia del mondano del profano quasi un bisogno no a volte addirittura il sacro ci sembra noioso ci annoia stare in quella presenza diventa noioso ma non è che è una noia perché il sacro sia di per sé noioso è una noia perché noi interpretiamo la nostra mancanza di volontà e di energia in quel senso quindi sì a volte abbiamo bisogno di staccare da quella presenza perché facilmente possiamo irrigidirci invece di vivere fluidamente quella presenza del sacro possiamo diventare come ipercoscienti no iper controllori e questo anche non funziona perché se ti irrigidisci in una cosa pensando di renderla sacra ecco che la stai di nuovo rendendo profana perché il sacro non è mai rigido il sacro è molto simile al modo in cui i bambini giocano con quella fluidità con quella capacità di cambiare gioco da un momento all'altro di dimenticarsi subito del passato stando completamente in tempo presente quindi sì a volte abbiamo bisogno di distrarci di tornare in quella incoscienza inconsapevolezza in quella profanità va bene va bene non è che dobbiamo stare 24 ore al giorno nel sacro ma l'idea è quella di cominciare a farlo sempre di più e quando si va a distrarsi nel mondo profano nel mondo mondano farlo anche quello consapevolmente farlo che abbiamo farlo con l'idea che abbiamo bisogno di andare in quel mondo profano per rilassarci un attimo per lasciare andare un attimo quella presenza per poi tornare alla sacralità è un'onda continua e così la sacralità può sorgere nei momenti più inaspettati può sorgere nel momento che pensavamo essere più profano è una sensazione semplice alla fine quella di sacralità è una sensazione di presenza una sensazione di espansione è una sensazione di beatitudine che comincia a sorgere magari mentre sei a fare l'aperitivo a berti quell'aperitivo a fare quei gesti semplici a parlare con quell'amico a fare quella passeggiata non è necessario quel rituale che a volte pensiamo sia necessario non è necessario quell'ambiente di un certo tipo che a volte pensiamo sia necessario è necessaria solo una presenza fluida rilassata ed ecco che il sacro può esprimersi perché il sacro si esprime naturalmente attraverso di noi non è qualcosa che dobbiamo cercare certo lo dobbiamo stimolare perché siamo abituati a ricacciarlo in basso ma è un'energia che di per sé vuole continuamente venire fuori perché la nostra verità più profonda noi dentro di noi abbiamo questo spazio sacro che vuole esprimersi quindi si tratta a volte di rilassarsi e di cominciare a concepire questo confine tra sacro e profano come qualcosa di sempre più sottile giocando anche divertendosi a passare da una parte all'altra di questo confine esplorando come le cose si mescolano come quegli atti che a volte possiamo considerare profani o non spirituali in realtà possono essere molto sacri e come gli atti che consideriamo molto sacri possono invece diventare fonte di inconsapevolezza possono diventare atti profani facilmente quindi tutto si mescola in questa continua danza fino a che a un certo punto cominciamo a percepire il mondo proprio come il corpo di Cristo proprio come questo gigantesco immenso corpo dove noi ci muoviamo ed ogni nostro gesto ogni nostro atto è un contributo che andiamo a questo corpo proprio come i nostri microrganismi nel nostro intestino ci fanno digerire quello che mangiamo che mettiamo dentro proprio come le nostre cellule hanno tutti questi piccoli lavori da fare e contribuiscono al benessere di questo organismo ecco che noi nel corpo di Cristo nel momento in cui entriamo sempre di più nell'energia del sacro diventiamo un oggetto sacro diventiamo fonte di sacro diventiamo qualcosa che può emettere questa particolare energia questa particolare luce e naturalmente questo ci porta ad un nuovo livello di coscienza che è quello in cui il corpo di Cristo allora non è più quell'ostia consacrata ma cominciamo a diventare anche noi stessi corpo di quella la coscienza cristica alla prossima alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti